amici ed amiche buongiorno qui siamo a marineo oggi è domenica la sedicesima domenica del tempo ordinario finito di vedere su youtube il commento al vangelo di un caro amico paolo curtaz è un bel commento e oggi ricordiamo noi il nostro paolo borsellino alla sua strage la sua morte insieme a quelli che della sua scorta e vogliamo collegare anche questo fatto brutto dell'assassinio di paolo borsellino da parte della mafia con il vangelo di oggi siamo nel capitolo 13 del vangelo di matteo e gesù parla del grano buono e della dizania ecco vedete cresce nel mondo insieme il bene e il male ecco le persone che portano frutti buoni sono appartengono al bene le persone che portano frutti cattivi che uccidono che fanno del male appartengono alla dizania alla parte brutta della società ecco noi oggi ricordiamo proprio questo che nel mondo esiste il bene esiste il male però gesù ci dice ancora altre cose innanzitutto che il regno di dio cresce sempre lo paragona il seme del regno di dio al granello di senape e questa pianta infestante che umile che cresce molto così liberamente nella palestina e poi gesù parla del lievito che una donna mette nella sua farina e questo fatto che la crea la la parte buona della società e cresce sempre cresce sempre porta se porta sempre del bene e poi ecco la fine parla e il vangelo di oggi della vita eterna perché è sempre una costante questa del cristianesimo se qualcuno ci chiede qual è il senso cristiano della vita la risposta che sempre abbiamo indicato è primo la felicità di amare la seconda la vita eterna e gesù proprio dice questo che la dizania e cresce insieme al seme al grano e poi alla fine ecco parla di questo che è la vita eterna del giudizio finale della separazione dei giusti che andranno a risplendere come il sole nel paradiso e poi purtroppo l'infelicità la perdizione eterna per chi ecco la dizania che viene gettata nel fuoco e viene bruciata bene grazie per avermi ascoltato buona domenica a tutti